e porta arzoni trovai e c'è già bravo e c'ha una verretta con la visiera alza e passa camminando per le cascine poi si ferma a mangiare un labbredotto e tu vuoi fare il toscano, il toscano, il toscano e me l'ha detto anche tu ma ma se tu mangi la porchetta o la oa oa allora tu sei una merdaiola e ti garba il prosciutto, ti garba per il rosso madrini per campare chi n'era la maia la visu ma tu vuoi fare il toscano, il toscano, il toscano e me l'ha detto anche tu ma che l'ha letta a me e l'odio per te e tu vuoi fare il toscano, tu vuoi fare il toscano, tu vuoi fare il toscano e non ti intendo se tu mi ragioni sverto e se per l'una te tu intenti tocco e se anche il pranzo e tu lo chiami tesinare e se quando tu le ti 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 vai a bruciare e tu vuoi fare il toscano, il toscano, il toscano e me l'ha detto anche tu ma ma se tu mangi la porchetta o la oa 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 allora tu sei una merdaiola ti garba il prosciutto, tu bevi il vino rosso ma a trini per campare chi n'era la maia la visu ma tu vuoi fare il toscano, il toscano, il toscano e me l'ha detto anche tu ma che l'ha letta a me e l'odio per te e tu vuoi fare il toscano, tu vuoi fare il toscano, tu vuoi fare il toscano, tu vuoi fare il toscano Grazie a tutti